Ma non sarebbe stato esente neanche il va-pensiero, se avessimo adottato il va-pensiero, l'avessimo innestato in questo cielo. Sentite un attimo il va-pensiero originale. Ci siamo? Tre quarti, due terzi, quattro, aspetta, tre quarti, perfetto, fermo, grazie. Adesso però innestiamolo nel cerimone, facciamoci marciare sopra la bandiera. Dobbiamo trasformare il va-pensiero in quattro quarti. Prego, maestro. Ma abbiamo detto che l'alfiere deve sentire le percussioni per il passo. Aggiungiamo anche le percussioni. Prego. E vogliamo mettere che qualche gruppo lo suoni male? Prego, maestro. Non si sarebbe salvato neanche l'Ave Maria di Sciù, ma questa è la prima volta che la... Avete capito qual è stato il destino del nostro himno? Non stiamo scherzando.